...in cima alla montagna, e Dio solo sa che altro c'è lassù. Con un po' di fortuna potresti riuscire a raggiungerlo prima dei ribelli. Sembra che Danam abbia un problema con i ribelli. E' in grado di quel che non sta' azzurrando, a Dio solo un'altra metà... ...in superiore, e' in grado di potere, edo... ...diaื่are, edo, escivare e' in grado di attacchurare e' in grado di attacchurare e' in grado di attacchurare ilе trattamento. E' in grado di attacchurare io, perciutto io e con i ribelli. I deppecchurare io e' in minuto, ma ti entrava in grado di attacchurare? Ndl, oi, oi. A dippecchurare io, cioè, il袋. Dio, a dippecchurare è nella mia e di attacchurare i ribelli. Grazie a tutti. 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 a tutti.